Ok, allora ciabatte ci sono, salvietta pure, costume anche, pallone immancabile, ora direi che sono pronto per andare in piscina Eccomi, sono pronto per andare in piscina, dai Luca vieni Eccomi qua, ah ma è solo questa forza qua Eh no, ho altre due cosine Eh cosa? Eh Ma come? Ma sei pazzo a portare tutto questo e roba qua? In che stiamo facendo un trasloco, dobbiamo solo andare in piscina oggi pomeriggio? Eh, ho preso soltanto il minimo indispensabile Ah, finalmente un bel tuffo in piscina ci voleva Ah, bella palta come piace a me, oh, incredibile Oh, ma c'è qualcuno che bisogna di aiuto Adesso farà un bel bagnetto, ma non sarà fredda l'acqua Oddio che fredda Ma lì dalla totorici è caldissima, sembra di stare in un video, un massaggio, dai, su Vieni qua in acqua, dai No, no Ma vieni qua, dai Esco Oh, l'isogliere non vado a uscire Non te la faccio Oh, grazie mille Mi fate di grande aiuto Certo, senti solo il fratellone Prego Gli sono venuti uscire per favore Grazie mille Mi è venuta una certa fame E lei dice se pranziamo, Lisa Va bene Dai, pranziamo Ora di mangiare Caspita, se è tanto, Lisa Eh, io non credo di mangiarli tutti Eh, magari il resto lo mangiamo stasera, dai, facciamo così Mamma mia, se è tanto, lo mangiamo stasera il resto Sono già piena Mamma mia, questo qua lo lascio per la cena io Mamma mia Sono piena, piena Mamma che fame che ho Ho assolutamente a mangiare qualcosa Ma è un'ora che non mangio Mamma mia, se è tanto, lo mangiamo stasera 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 Mamma mia, se è solo? Mamma mia, se è tanto? No aiutatemi è una bella doccia Lisa speriamo che sia calda almeno perché già la piscina è una fredda è fredda è freddissima ma veramente ok quindi buon piano ce l'abbiamo oh lo smalto Lisa oh lo smalto mamma devo andare da l'estetista nuovamente ma ne potremmo andare in cuscina a fare così oh c'è fredda oh un attimo di coraggio oh c'è fredda la doccia oh c'è fredda la doccia oh c'è fredda la doccia nooo cazza ma stai fredda la doccia mamma mia io con le unghie ho due capelli finamente una bella doccia ok ragazzi io ho finito vi aspetto all'ombrellone va bene ciao ma noi siamo anche a metà oh va bene bene ragazzi speriamo che questo video vi sia piaciuto mi raccomando mettete un bel pollicione in su e iscrivetevi all'instagram di lucasgymweb e cecilia fashion official iscrivetevi al secondo canale tube music per scaricare musica gratis e potete metterla anche nei vostri video noi ragazzi ci vediamo in un altro video eeeeeeeeeee xabelli eeeeeee